serve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi consigliamo giocare a mafia 2 e scusatemi mafia 1 definitive edition dipendiamo da dove ci siamo lasciati continuiamo la storia l'ultimo video c'è l'ultima missione non è stata molto difficile diciamo la verità ragazzi l'ho fatta subito però vediamo un po adesso come va un ottimo affare è l'ultimo carico di roba buona lo so ho conservato quelle bottiglie per dieci anni ma ci servono soldi portatele via sentito caricatele che piacere vedervi capo che ne pensa del lavoro con salvatore sei stato bravo tom chilotti non ha più nulla su di noi abbiamo guadagnato tempo almeno fin che bastano i soldi forse possiamo fare un altro passo capo se non mi ha detto che hai un piano ciao e le piacerà faremo un bel gruzzolo e faremo sacciare qualche dente amorello ok cosa hai in mente un paio di settimane fa mi stavo rilassando nella cigar lounge del blu tropics e che un bordello da quattro soldi due stanze totalmente spoglie coi materassi a terra e per gente rispettabile anno al baile è tutto comunque un cliente era ubriaco fratico e tormentava la madama con tutti i suoi problemi ha attirato la mia attenzione col suo accento del cazzo ripeteva ancora e ancora di questa bella attività che era riuscito a tirare su ma gli scherri per cui lavorava pretendevano una fetta e avevano deciso di rompergli il naso gli hai pagato il conto eccetto che però l'ho accompagnato fuori l'ho portato a una tavola calda per aiutarlo a riprendere ci mettiamo a parlare e viene fuori che il suo nome è gates è un campagnolo e viene da kentaghi un contrabbandiere ha 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 meglio suo padre possiede un paio di destellerie e vi lascio immaginare chi è il loro unico acquirente da queste parti morello ma pensi che voglio tagliare i punti ma lo sono lavorato bene stanotte un altro grosso carico ma ha convinto tutti i suoi uomini ad arrendersi non dobbiamo far altro che simulare una rapina vera e propria non lo so pure ti fidi davvero di noi morello non gli piace questo è chiaro noi non abbiamo alternative siamo quasi alla canna del gas giusto capo che ne pensi tom dobbiamo rimpiazzare il canadian se per poli questo gates è la soluzione per me va bene dov'è l'incontro al grosso parcheggio joan g ok bene ma stavolta vedete di non fare minchiate portate anche carlo e little pill cosa fatta capo quando avete il furgone tornata subito qui va bene che si senta bene spero vabbè vabbè mi sono un po pezzo che bene carlo sembra uno che se l'è fatta sotto no vaffanculo è il tuo momento di gloria e finalmente sei con i ragazzi senti passo più tempo io con il don che tutti voi messi assieme certo certo lo aspetta fuori finchè non ha finito con le sue buttane se non mi volete non vengo nessun problema il capo non lo verrà a sapere attento se non mi volete non vengo nessun problema il capo non lo verrà a sapere se il capo ha detto che viene tu vieni è solo che c'hai l'aria di uomo che va verso una scampagnata non voglio che gates pensi che siamo dei deboli a ogni modo perché gates ce l'ha con morello la prima volta che gates ha fermato i furgoni morello ha deciso unilateralmente di modificare i termini e già che c'era ci ha rotto il naso come parte della rinegoziazione se morello viene a sapere che siamo coinvolti è la volta buona che glielo stacca e questo dobbiamo fingere di rapenarlo così tornerà dal suo paparino raccontando la storia a sta palagra e mi avevo messo tutto rubato e minacciato con le pistole convincere che stavo dicendo questo piano è una stronzata Tom Pauli me l'ha raccontato ieri e in qualche modo sembra già peggiorato ascolta quando farai un lavoro vero per il capo invece di scarrozzarlo in giro allora solo allora puoi dire la tua fino a quel momento vedi di tenere chiusa quella cazzo di fogna va bene come vuoi puoi non venire a piangere da me quando morello ti becca che stai insinuando? che cazzo stai insinuando? ragazzi fatela finita cristo ah no ragazzi dovevo togliere la musica però non l'ho tolta sta macchina è raminata vabbè non è successo niente dai siamo arrivati ci lavoro spesso qui il parcheggiatore si accontenta di poco non facciare nessuno finché qui ci sono io ok ci siamo Gates sta aspettando all'ultimo piano tutto tranquillo per ora solo chi lavora la macchina dalle nove alle cinque questo posto è deserto beh noi abbiamo un lavoro ma siamo qui quell'accio tipo di lavoro c'è qualcos'altro che dobbiamo sapere su Gates Poli? solo che c'è il naso rotto e la cassa è piena di roba buona l'ideale per noi l'ideale per noi perché c'è laggiù? è un piacere vederti sì anche per me Gates spero sappiate riconoscere il buon whisky beh non sono esattamente un aspetto Tommy sì è buono il primo pagamento se il Don è soddisfatto finanzierà altri carichi perché i quantitativi aumenteranno costantemente e noi saremo ricchi ragazzi beh è sempre un piacere fare affari con persone rispettabili come Don Salieri quindi porgigli i miei rispetti ma certo ora dobbiamo solo chiudere quest'affare Cristo Poli no no tranquilli che c'è? ve l'ho detto che all'apparenza doveva sembrare una rapena no? quando avrò finito in questa città mi toccherà rifarmi il naso eh puoi stare tranquillo con tutte le soldi che ti farei potrai comprartene uno nuovo eh 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 bellissimo eh ma stiamo come minchia sono venuti a sapere perché non stai mai zitto Gates è stato colpito non è grave prendete gli alcolici e filate ci pensano i miei ragazzi andate toglietemi di mezzo tutti quelli che incontrate più avanti io resto con il piccoletto Carlo sali sul taxi non ci servi da moto Tommy cerca gli altri non è ancora finita on set dono max proteggi oh proteggi ehi ne arrivano altri sono qui ne arriva un altro hanno chiamato le porte ragazzi ah A Cristo! A Cristo! A Cristo! A Cristo! A Cristo! A Cristo! Get me! il furgone non può passare dobbiamo svegli cerca un estendone o qualcosaccio c'è il sistema antigenoso soffitto dobbiamo attivarlo da qualche volta ci deve essere una valvola d'aprire oh parca miseria dopo un passaggio dom io resto col furgone eh una parola parca miseria non mi ricordo come fare ok ok guarda ragazzi qua ci deve essere un kit medico e infatti voglio usarlo che è successo? no oh parca miseria dai 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 ok prima colleghiamoci ragazzi non vuole che succeda qualcosa di altro oggi non vuole che succederà non vuole che succederà io resto dietro di voi se ne vedete apri e sparate vabbè c'è camion non vuole che non era finito venite subito qui non vuole che non vuole che succederà mai non vanta grazie junior or soccer nani non vuole che succederà magari roba non vuole che succederà voi ma non vuole che succedere non vuole che succederà non vuole che succederà non vuole che succedere merendiana a parta miseria Non posso crederci che l'ho scappata Ma sicuro Palla con Sam Ah Sam, scusate Prendi una macchina e coprimi le spalle Ma che ci avrà fatto Morello a scoprire dell'accordo? In questa città nessuno si fa i cazzi suoi Per il momento portiamo gli alcolici al magazzino e cerchiamo di non morire Ma che ci avrà fatto Morello a scoprire dell'accordo? In questa città nessuno si fa i cazzi suoi Per il momento portiamo gli alcolici al magazzino e cerchiamo di non morire Ce lo sapevo Dobbiamo alzare i calcani Ok, cerchiamo di rallentarli Capisce dove fa male Capisce dove fa male Capisce dove fa male Morello ci ha mandato degli ecce fottuti uomini Un'altra auto appunto al furgone degli alcolici Sam sta passando per la Managoboli E allora facciamolo anche noi Un'altra auto appunto al furgone Un'altra auto appunto al furgone Ma guarda sto coglione Forse li abbiamo seminati Grazie al cielo Andiamo a casa Vediamo cosa abbiamo Abbiamo gli alcolici Voglio dire non è andata secondo i piani Ma abbiamo gli alcolici Già Anche se mi sa tanto che stasera io e te ne berremo un bel po' Direi che ce lo siamo meritati Sembra una Calibre 108 Opera di quelle di Morello Sì Li abbiamo sistemati E il 18 da Piantagli L'hanno colpito alla spalla Ma è un tipo tosto Lui e i suoi sono andati via appena abbiamo steso i sicari di Morello Una boschetta Darà Gates al padre Un altro motivo per far fuori Morello Da un business Sentiamo se questo sciacqua modella è valso il disturbo Ottimo Mi occuperò dei dettagli col padre di Gates Con questa delizia del Kentucky Torneremo sulla cresta dell'onda Bello pure ragazzo Sono fiero di te Sono fiero di tutti voi Alla salute Salute A posto ragazzi Ho fatto anche questa missione Allora ragazzi Io comunque direi che con questo video Ci possiamo salutare qui Anche se non è molto lungo Però ci sta dai Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi Come sempre vi chiedo Se volete iscrivetevi Lasciate un bel like Un saluto Ciao ragazzi E al prossimo video di Mafia 1 Definitive Edition E al prossimo video di E al prossimo video di E al prossimo video di